E' polemica a Bordolano, comune di provincia di Cremona, dopo le scosse di terremoto che hanno funestato l'Emilia-Romagna, avvertite distintamente anche in tutto il territorio provinciale. A Bordolano, infatti, dove è già presente un campo per l'estrazione del metano, è previsto dalla Stogit del gruppo SNAM un impianto stoccaggio destinato ad ospitare circa 1.200.000 metri cubi di gas. Il consigliere comunale di opposizione Luisa Pea, in seguito alle due scosse telluriche che si sono verificate all'alba di domenica, ha telefonato al primo cittadino di Bordolano per chiedere di fermare i compressori, ma dopo l'intervento di una squadra della Stogit che ha verificato i parametri dei compressori, si è deciso di lasciare acceso l'impianto. La decisione è stata confermata anche dopo la nuova scossa di magnitudo 5.1 registrata alle 15.19 di ieri, protesta il coordinamento dei comitati ambientalisti della Lombardia a nome del vicepresidente Ezio Corradi. Questa notte il cluster B di Bordolano non si è fermato nemmeno davanti alle scosse di terremoto, afferma Corradi, ha continuato in perterrito a macinare metano nel sottosuolo. Già, ma le macchine non conoscono né prevenzione, né precauzione, né prudenza. Nessun intervento da parte del sindaco, né da parte della prefettura, tanto la scossa era lontana. Peccato che si sia sentita distintamente anche a Bordolano, su Resina, Soncino, Piadena. Dobbiamo pensare che per le nostre istituzioni l'emergenza ci sia solo quando si contano i morti. Da tempo i comitati ambientalisti chiedono che prima di realizzare gli impianti di stoccaggio si verifichino le condizioni di criticità del suolo e la possibilità che in presenza della zona sismica del pianalto di Romanengo, tra i comuni di Romanengo, Soncino, Tocengo e Cataletto di sopra, non possa verificarsi una condizione di alta criticità. Un prossimo incontro sul tema si terrà venerdì prossimo alle 20.30 al Teatro Parrocchiale di Quinsano d'Oglio.